e oggi facciamo uno spacchettamento epico ho usato un po gli succhetti e ho dato un po i coupon ne ho pochi e ne ho pochi però ne ho solo qualche miliardo ecco vediamo un po che spacchettamento mamma mia apriamo morte autodifesa morte autodifesa non l'ho visto però era brutto ok ora uno fortissimo c'è ora quello forte morti proibito bello pronti la maniera assolutamente di morti è bellissimo ok pronti ma io sto schifo ok ok il raro ecco il raro morti risorto morti sgabbello morti malinconico uh bello bello uh bello questo è non mi piace lui andiamo qua apriamo uh ok cos'è? ok morti pizza coi fiumi è erotico che bello che bello ok apriamo boom ok due chip brutto bello bellissimo bellissimo bello 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 e ora bello bello ok bisogna trovare quelli rari raga queste scatole a che servono? oh morti telepatico eh no è e uuuuh bello bello è bello dai ok raga che figo Ok Ma che cosa Oddio Oddio ne ho trovato un oraro Ne ho trovato un botto qua E andiamo Ok Morti due gatti Ok 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 Cavoli Che robe belle Gli esotici Scatola Ma cosa servono queste scatole Oddio cos'è Morti super vecchio Morti ombra E morti mostro Boom Ok Morti faccia la calma Raga son bellissimi Oddio cos'è morti in blade Test 46 Ok Oh un altro morti proibito Andiamo a metterci insieme Un po' I morti Andiamo tipo Dove possiamo andare Andiamo Ok qua Combino Allora Vediamo un po' Combino Ok Combino sti due Posso? Perché? Perché no? Me lo dovete spiegare Magari loro due Lui No Lui e lui Perché? Forse per i livelli Non so proprio perché Oh questo sì Ah sì Mi sa che pare I livelli Oh ma Brutto Vediamo cosa si può combinare Posso combinare Non lo so Questi due Forse i livelli Forse i livelli I due morti proibito Ti prego Non si possono Loro Morti roccioso Strano Questi Sì Loro sì Vediamo Morti parassita Magari non tutti Si possono combinare Morti autodifesa Sì Vediamo Iata Morti carate Morti carate Morti carate Oddio Oh mamma Andiamo su Questi Oddio Non voglio vedere Che succede Morti carate Oddio Oddio Ok Loro no Loro no Loro Si Vediamo Mamma mia Che figata Loro due Oh no Ma l'immaginavo un po' più brutto Vabbè Vivo quello Vivo quello Andiamo di nuovo su E proviamo a combinare No Vediamo Pocket Morti Ok Morti pocket Morti No Loro no Morti gattorandaggio Morti due gatti Giusto Ecco E loro due Tipo così Morti tre gatti Morti gatti Oddio Trovo belli Siamo un po' il volume Ehm No Loro non si botevano Vero Oh cavolo Morti Terrasandato Oh no 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 Andiamo 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 su Morti super vecchio No Dei basta Facciamo giusto loro due E boh Che li abbiamo finiti Ci sono Questi se si può Boh Ok Addestriamoli un po' dai ora E ma C'è nessuno Ma 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 Ok Mettiamoci uno forte Potete Potete Scrivermi anche nei commenti Magari qual è uno fa Lui Ma Ok 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 Vabbè All'archiviazione Allora Mettiamoci un po' quelli forti Andiamo un po' qua a vedere I più forti I morti proibito L'aggiungiamo Nuovi 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 No 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 Il nome Cavolo Partiamo dagli ultimi Vediamo se sono forti Allora Visto che è 28 Aggiungiamo Dai che è forte Questa si Questa si Facciamoci una bella squad Questa dai Si Poi Non li posso più Non li posso più aggiungere Li muovi Questo qua sembra molto forte Li muoviamo 25 Ok E mettiamo Il mostro Mi sembra una bestia Anche lui Anche lui Una velva I più I più Questo qua Che è un'altra carta E non va bene Voglio il mortimostro Eccolo E ora è carta Va bene Ce ne sono altri forti 32 Va bene Andiamo un po' ad allenarci A combattere Questi Ma raga è stata Uno Spacchettamento Epico Ora siamo Delle Velve Proviamo ad andare Qua E Compriamo Un po' Oggetti Eh Stiamo a imparare un botto di cose Però non mi serva niente Questiamo Non mi serva niente Personalizzo Voglio Voglio No No Ok Andiamo avanti Ottimo Ottimo Ok Allora Dai raga Spero che questo vi sia asciuto Suprami 102 milioni Di like E E noi Ci rivediamo In Un laboratorio Di morti Beh Nel prossimo episodio Ricordatevi Che andremo Che andremo Un po' a vedere Cosa Dicono Cosa si dicono Tra di loro E beh Ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 Ciao